si cambia tipo di gav e si prepara per questo dove si va si vedrà una nuova avventura quindi con un dico dell'estremarazio l'ho modificato l'ho posizionato in modo talare da renderlo vantaggioso e pratico per me quindi ottimo siamo pronti si lavora come sempre per migliorarsi queste sono le mie scarpe io mi trovo comodo con queste alla fine sono le cose che più vanno al meglio per appunto muovermi bene a posto signori ne vedremo come sempre delle belle e vi lascio col dico dell'estrema razio tra l'altro veramente fatto molto ma molto bene ecco qua pratico perfetto per me ottimo lo consiglio vivamente a tutti quelli che vanno a fare immersioni che necessitano di un utensile quindi io in questo caso qua adesso appunto mi sto avviando in un territorio in cui prediliga avere un'arma corta in questo caso ok quindi questo qua è perfetto e basta quindi deve adempiere il suo al suo lavoro ottimo per tagliare le sagole qua per i grilli questo appunto per poter muovere per svitare fare qualcosa insomma tutte le componenti mi piace veramente tantissimo prediligo anche l'ultramarine che ho però diciamo che questo qua nel contesto in cui mi muovo adesso è perfetto